Ciao ragazzi, avete mai sentito parlare della valvola EGR? Che cos'è semplicemente la valvola EGR? La valvola EGR è questa qui. È una valvola dove abbiamo posizionata tra il collettore di scarico e il collettore di aspirazione. Che lavoro svolge? Lei va a prelevare dei gas combusti dal sistema di scarico e li porta di nuovo in aspirazione. Tu dirai, sì, ma che senso ha, perché? Perché? Beh, nei diesel semplicemente è per abbassare gli inquinamenti, quindi gli NOx, gli ossidi di azoto, nei diesel né benzina, per cercare di abbassare gli NOx comunque. In che modo? Sicuramente nel diesel noi abbiamo rapporti di compressione molto alti e quindi abbiamo temperature molto elevate. Per cercare di abbassare quelle temperature, quindi per ridurre gli NOx, andiamo a immettere dei gas combusti, già combusti, di nuovo nel collettore di aspirazione. Quindi, portandoli di nuovo dentro, hanno meno ossigeno e la combustione va a calare, quindi la temperatura si abbassa. Abbassando la temperatura abbiamo modo di abbassare gli ossidi di azoto. Detto questo, che è il suo scopo fondamentale, il suo scopo principale, la valvola EGR ha delle problematiche però, delle problematiche serie, abbastanza serie, dove, essendo che noi abbiamo gas combusti, appunto, come vi dicevo, abbiamo delle grandi incrostazioni qui, in questo punto, incrostazioni, depositi carboniosi, che vanno a bloccare la valvola che c'è interna. Quindi questa valvola che va a chiudere, si blocca i depositi carboniosi. Depositi, vi faccio vedere in poche parole, è così, va a bloccarsi in questo modo. Tutti i depositi vanno a bloccarsi davanti, va a chiudere o aprire EGR, oppure blocca la valvola aperta, quindi se la blocca aperta è ancora peggio, perché se la blocca aperta che cosa fa? I gas combusti che sono qui nel collettore di scarico, entrano nei condotti della valvola EGR e tornano tutti quanti in aspirazione. Avendo la valvola aperta, non hanno possibilità di fermarsi qui, entrano tutti, e va a notevolmente, a inquinare l'aria, che andiamo a aspirare dall'esterno, o dalla turbina che va a spingere comunque, andiamo a inquinare tutta l'aria che entra in camera di combustione. Abbiamo sicuramente una combustione sbagliata. Nel peggiore dei casi la macchina non ti parte, nel senso che non riesce a fare combustione, perché abbiamo talmente di quei gas di scarico che la macchina non riesce a fare combustione. Nei casi meno gravi, magari è rimasta aperta un pelo, magari è rimasta aperta a metà, diciamo che la macchina ti sbaglia, la macchina la senti sborbottare, oppure ti strappa, ti va in protezione, tante problematiche ti può portare questa valvola EGR. Detto questo, si può pulire. Se la valvola EGR non è bloccato l'attuatore, noi andiamo a pulire tutto questo deposito carbonioso che si forma qui sulla valvola, lei torna a funzionare, riesce a bloccare, e la centralina riesce a bloccare i gas di scarico, la centralina motore comanda quando aprirla o chiuderla per abbassare gli NOx, e riusciamo sicuramente a portare la macchina di nuovo ai regimi. Se si blocca l'attuatore, invece purtroppo va sostituita. Se non mi parlate di mappature, togliere le EGR, cose varie, perché sto parlando della macchina come funziona realmente, quindi l'EGR, la funzione è proprio questa, comunque abbassare gli NOx. Se volete pulire, ragazzi, si può anche pulire. Ciao ragazzi, alla prossima!